Ciao a tutti e tutte e bentornati sulla sfida il grattino dell'anno. Oggi abbiamo due numeri fortunati, 41 e 48 della serie 21, due oroscopo 19 e 21 della serie 37, due mamma non mamma serie 54, 26 e 28, saltano tutti i due numeri, e superportafortuna serie 17, il 15 e il 17. Occhio eh, perché qui oggi potrebbe cambiare qualcosa, perché la situazione è rimasta invariata. 19 euro per i numeri fortunati, 17 per il superportafortuna, 8 per l'oroscopo e solo 3 euro per il mamma non mamma. Mamma non mamma, o ti svegli o non ti amo. Allora, partiamo subito dal primo numero di fortunati. Primo numero, 22, 22, 22, non c'è. 35, 35 c'è. 56, qui c'è il 46, qui il 36, 56 non c'è. 58, c'è il 28, ma non c'è il 58. 45, c'è il 46 e c'è il 45. Ma che bello. Allora, io posso dire adesso, lo dico, io spero che passino i numeri fortunati, perché sono quelli che mi piacciono di più, tra tutti questi. Anche il superportafortuna mi piace, però il numero di fortunati è più bello, sono più numeri, è più bello, sono forse più possibilità. 55, intanto non c'è. Passiamo alla seconda fila. 60, c'è il 50, 40, 30, ma non c'è il 60. 49, non c'è. 50, l'abbiamo chiamato prima. 15, c'è il 14, ma c'è anche il 15, eh, non l'avevo visto, eh. 41, c'è anche il 41. Poi 16, 16, eccolo qua. Penultimo numero, 42, che non c'è. L'ultimo numero, 27. Però non avendo trovato il 28, ce ne facciamo poco. E questo biglietto è perdente, il primo dei numeri fortunati. Passiamo al primo dell'oroscopo. 11, 29, 39 e 14 numeri fortunati, vincenti, va, diciamo così. Primo numero, 36, non ci sei. 23, non c'è. 13, c'è il 14, c'è l'11. 42, non c'è. Il 20, non c'è. Il 38, c'è il 39. 34, c'è il 14. 25, c'è il 29. 29, c'è il 29. Era ora che l'oroscopo tirasse fuori una vincita. Mamma mia. Vediamo da 8 euro a quanto può andare. Quanto potremmo trovare? Oh, 43, non c'è. Il 31, non c'è. E il 17, bello, ma non c'è. Quindi, finalmente, il 29. Una bella vincita. Cioè, speriamo che sia bella. Intanto le cifre. 200, 3 euro. 10.000 euro. E 1.000 euro. Quindi, nessuna vincita doppia. Mettiamo il codice. Questa, però, deve sembrare che è la terza vincita per l'oroscopo. Andiamo a vedere sotto il 29. Che cosa si nasconde? Oh, 5 euro. 5 euro sono buoni, perché da 8 va a 13. E quindi, mettiamolo da parte. È il turno del mamma non mamma, che questo è proprio come il super sfiga e mezzo. Mamma mia. Io questo lo rinomino sfiga o non sfiga, perché veramente. Tamburello e il jolly. E invece la chitarra non ci serve. Un cuore, una fotografia, una mano, un pennello. Una cassetta, uno smile. Secondo cuore, il sole, la farfalla. Terzo cuore, i pantaloni, il fiore. Ultimo, un cuore che è uno, due, tre, quattro e non ci serve a nulla. Tuz, 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 tuz. Perdente, mamma non mamma. Passiamo al numeri... No, scusate, superportafortuna ancora. Deve finire il giro ancora. Il primo del numero di portafortuna ci dice, superportafortuna, 200, 400, un bel 10, un bel 200.000. E con questo, eh, andrebbe direttamente in finale. 10.000, 15.000, 200.000, e sono due, occhio. Un altro 10.000, un bel 40.000. Oh, attenzione, un 10 euro ho trovato. Un altro 40 e un 3 euro. E ricordiamoci che il superportafortuna era 17 euro. E con questi 10 euro va a 27 euro. Gli mancano solo 3 euro. Intanto mi chiamano sempre quando devo registrare, ma noi stacchiamo. Perché non ci frega nulla. Noi qua dobbiamo trovare il vincitore oggi. Dove far passare... Qualcuno oggi deve passare per forza. Forziere, Cocinello e Quadrifoglio. E Arcobaleno. Niente. Però è vincente lo stesso. Perché i 10 euro li abbiamo trovati. Si accende la sfida, signori. Si è accesa. Attenzione, si è accesa. Ricominciamo. Numeri fortunati. 6 a 19 euro. Il superportafortuna è a 27. O metti a segno una vincita, che ti basterebbe una da 15 per passare. Perché anche con 10 andresti a 29. E non ti basterebbe? Mi sto fomentando. Eh? Allora, signori. Eh? Signori. Cominciamo col primo numero. E incrociamo le dita. Perché io tifo per i numeri fortunati. Ma anche superportafortuna non mi dispiacerebbe. 64 c'è. E qua c'è già, si vede il 65. 65 non c'è. Mamma mia. Si è accesa la sfida. Si è accesa. Si è accesa. 52 c'è. Vediamo se i numeri fortunati risponderà subito. Questo lo grattiamo per così. 50. E c'è. E c'è. 41. 41. E c'è. E c'è, signori. C'è. 71. 71. Che nella smorfia... 42. Allora, se passi i numeri fortunati, se volete la smorfia, ogni numero facciamo la smorfia. Che dite? Diciamo la smorfia. Il numero è... 66 non c'è, non c'è. 49. 49. Non c'è. 53. 53. Non c'è. Perché per un attimo... Ho spostato tutto. Per un attimo, ho visto il 33, ho detto, ma... 43, ma... E niente. 14. 14. 14. Ah, se non l'avete fatto, iscrivetevi, perché adesso la sfida si è accesa. Iscrivetevi al canale. Sì. 43 c'è. Visto? Dico, iscrivetevi ed esce il numero. Iscrivetevi. No, non funziona più. Lasciato un mi piace. 76. Eh, vedi, lasciato un mi piace anche funziona. Allora, abbiamo gli ultimi due numeri. E oserei dire, forse... Non sappiamo cosa c'è nell'altro superportafortuna, ma forse... Potrebbe essere l'ultima possibilità per i numeri fortunati per mettere a segno una vincita e passare il turno. 33! C'è, ma non ci serve, perché ne mancano due qua. Ultimo numero, dai. Ultimo numero. Oia, vedo uno zero. Eh, niente, niente, niente. Si è fermato, si è fermato i numeri fortunati. Niente, 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 niente. Niente, niente, niente. Lascia stare, va? Allora, facciamo così. Direi di passare all'oroscopo, che dita? Numeri fortunati. 26, 14 e 21. Allora, il numero di fortunati con i 5 euro di prima è arrivato a 13. Se metto a segno una vincita qua, prima di guardare la cifra, proviamo a fare i calcoli che si devono fare. Perché io qua adesso mi aspetto di tutto. 35, 41, 44, 17, 12, c'è sto 21 girato. 37 e non c'è il 31, c'è ancora sto 21, 39, c'è il 30, 23, 42, 46, non ci sei, ultimo numero, il 20 e avevamo il 30. Mi consenta? Vediamo le cifre, mi consenta? 500 euro andrebbero bene, 100 euro andrebbero bene, 20 euro ancora meglio, perché con 13 euro e niente, 5 euro. Eh, perché non ho finito la frase, eh, lo so. Niente, quindi questa è perdente. Direi di passare al mamma non mama, se non diventa un video troppo lungo. E facciamo, occhiali, il bonus. La bella farfalla, quanto ci piace la farfalla? Cuore, cassetta, arcobaleno, cuore, smile, nota, tamburello. Doveva uscire prima il tamburello. Rulotte, cuffie, fiore, cuore, tutto con la E. Uno, due, tre, ancora due, cuore, niente. Disco e televisione. Sto mamma non mama veramente. Allora, ma guardate, si aggiunge al migliardello da due e al super sfiga e mezzo, perché proprio veramente fa... Orrore, fa orrore, hashtag orrore, scrivetelo qua sotto. Dunque, partiamo con l'ultimo super portafortuna, che se dovesse mettere a segno una vincita minima, proprio, ma minima, di 3 euro, sarebbe al turno successivo. E non... Vedete che i colpi di scena ci sono, eh. 15 euro. Facciamo una per così stavolta, eh. 3 euro, questo gli basta, 3 euro. E cambieremo pagina. 5 euro, 5 euro. Cifre, comunque, le prime tutte basse. 200 euro, 40 e 15 euro. Io non voglio dire niente, eh. Non dico niente. Facciamo come si faceva a scuola, i bordini. 10 euro. 10.000. Signori, 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 non dico niente. Signori, 10 euro e sono due. Allora. 15 e sono due. 3 e sono due. 10 e sono due. Signori, non dico nulla. riduciamo i riquadri. E' giusto ridurli. 400 euro. Per un attimo ci ho creduto. Ma non è finita. Non è finita. Ti basta anche solo un 3 euro. Ci bastano 3 euro. Signori. Signori. No. Ci mette il 10.000. No. No. Non va bene così. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. No, no, no. Proviamo a vedere le cifre. Per un attimo. Ce l'avevo sperato. Forziere. Quadrifoglio. La coccinella. Dai, sono due che portano fortuna e uno che fa vedere i soldi. Dai, su. Forza. Dai, 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 dai. E andiamo. E andiamo. Signori. Si conclude qui la sfida. Abbiamo un vincitore. Perché gli bastavano 3 euro. Mi dispiace per i numeri fortunati. Ma anche il super portafortuna mi piace. Ma si vedeva già dall'inizio. Da come era poi stata la sfida. Erano già in vantaggio loro dall'inizio. Dunque, è inutile dirlo. È arrivato con quei 10 euro a 27, il super numero di fortunati. Gli bastano 3 euro. Ed è passato. Se poi c'è di più, meglio ancora. Ma signori, che bella sfida è stata anche questa, eh? Che bella sfida è stata. E infatti, il minimo sindacale, si porta a casa la vittoria e il passaggio del turno, signori. Ma cosa stiamo parlando? Allora, andiamo a giornaliero di bordo. Allora, proclamiamo il nostro vincitore. I numeri, il super portafortuna, mi confondo sempre. Super portafortuna chiude a 30 euro. E passa al turno successivo e sarà poi in serie A. Il mamma non mama chiude a 3 euro e va in serie B. L'oroscopo chiude a 13 euro e va in serie B. I numeri fortunati, avendo vinto l'altra sfida, era già in serie A, quindi rimane in serie A. E chiude a 19 euro. Mi dispiace per i numeri fortunati, sono sincero. Sono sincero. Dispiace. E niente. Ci vediamo a una prossima sfida in cui ci sarà il nostro super portafortuna. Qui 3 euro e qui 3 10 euro. Oggi ha proprio sbancato il super portafortuna. Lui da 3 euro contro altri non so se sono quanti sono da 5 euro se non mi ricordo contro 2 o 3 grattini da 5 euro e la soglia, ricordo che è lì visto che siamo passati a quelli da 5 euro sarà di 50 euro. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti e un bacio a tutti. Grazie. Grazie.